Ragazzi buongiorno, benvenuti a Monaco. Come tutti gli anni qua a Monaco si riuniscono tutti i pro, diciamo verso fine novembre, si riuniscono per fare una garetta tra amici. Siccome l'invito è fatto dal principe partecipano tutti i super pro, ma proprio tutti. Andiamo un po' a vedere chi riusciamo a incrociare oggi. Si percorrerà il circuito della Formula 1, come vedete è tutto recintato, ma faranno solo la parte della chicane delle piscine e la fanno al contrario, perciò fanno contromano il circuito della Formula 1 e non fanno un metro di salita perché è tutto in piano. Questa mattina appunto fanno tutta la cosa un po' di spettacolo e poi nel primo pomeriggio fanno un criterium. Andiamo un po' a vedere chi incrociamo. Andiamo? Voilà, merci. Oh, allora, mi hanno fatto entrare nel percorso, non so, non so se sia legale o meno, comunque ci sono e vediamo un po' chi c'è. Ciao. Sì, 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 certo, certamente. Di lì a destra? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 Non vedevi il buco sotto, era proprio strada dritta e un buco. Non è vero che non conosci i sentieri, la prima volta era una pianura. Saremo bello, le figure anche. Qua sopra ho trovato anche belle ponte, ma io è più vicino. Mi cominci e puoi fare il tiro, anche di tre ore, ma qua sono molto impegnativi. Siamo impegnativi, non puoi fare un po' di volte, ma non puoi fare ogni giorno perché ti ritrovi. Bell'imbonio, grande! Come stai? Vieni? Ti ho visto sbattare lì, eh! Ciao Bonny! Ciao! Questa è l'andata, il ritorno si fa di sopra, come avete visto ci sono tutti. Adesso di qua andiamo ad uscire dal circuito. Questo è l'unico strappo del circuito, strappetto che risale. Adesso però noi usciamo dal circuito e abbiamo finito. Non abbiamo visto Pogacar come due anni fa, ma abbiamo visto tutti gli altri, parecchi altri. Comunque oggi loro si divertono. Questo è l'evento Back to Bike. Questo è quanto dal Principato. Purtroppo oggi è una giornata un po' anomala per me, personalmente. Quindi va bene così per oggi. Ciao! Ciao!